Buonasera, benvenute e benvenuti a questo terzo appuntamento del quarto ciclo di Extrema Razio. Io sono Nicolo Scaffà, insegno critica letteraria e letterature comparate all'Università di Siena e coordinerò l'incontro di questa sera. Come ormai molti sanno, Extrema Razio è una serie di dialoghi, lezioni e conferenze organizzata dal Dipartimento di Firologia e Critica delle letterature antiche e moderne dell'Università degli Studi di Siena ed è un'iniziativa nata nel marzo scorso da un'idea di Emanuela Carbet, Maria Rita Di Giglio, Guido Mazzoni e Pierluigi Pellini. Prima di cominciare ringrazio come sempre il centro di calcro, l'area biblioteca e l'ufficio comunicazione dell'Università di Siena che hanno reso possibile Extrema Razio e accanto a questi un ringraziamento particolare ad Angelica Losauro, Giulia Laversa e Lara Marrama che si prodigano per assicurare il collegamento e far conoscere questa iniziativa. Questa sera abbiamo il grande piacere di avere come nostri ospiti Antonella Anedda e Riccardo Donati. Antonella Anedda è tra le voci più importanti della poesia italiana contemporanea, è nata a Roma da una famiglia di origine sarta, già docente all'Università di Siena, alla Facoltà di Lettere di Arezzo, dove è stata anche collega di alcuni di noi, insegna all'Università della Svizzera italiana. Le sue opere sono tradotte in molte lingue e ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, mi limito qui a ricordare solo il premio Viareggio vinto con Salva con nome, proprio perché è il libro da cui prende il titolo l'incontro di questa sera. Nel 19 l'è stato conferito un dottorato, un honoris causa per l'opera poetica e saggistica all'Università della Sorbonne. Le sue raccolte di poesia sono numerose e importanti, mi limito qui a ricordarne solo alcune, Noti di Pace occidentale, già citata Salva con nome, e la recente Historie. Importante anche i suoi libri in prosa, Cosa sono gli anni, La luce delle cose, La vita dei dettagli, Isolatria. Recentemente è stato ristampato, o meglio uscita una nuova edizione, anche di un suo quaderno di traduzioni, i nomi distanti, nuova edizione da Aragno, e di prossima pubblicazione sarà un libro per Garzanti, Geografie, di cui questa sera Antonella Nedda ci farà il regalo di leggerci, un'anteprima, così come è atteso un volume di studio sulla natura in Leopardi e nei Darwin, Charles e Erasmus. Da pochi giorni per chiare lettere è uscito anche il volume, Poesia come l'ossigeno per un'ecologia della parola, argomento del quale non posso che compiacermi, scritto con Elisa Biagini e curato da Riccardo Donati, che è l'altro nostro ospite e interlocutore di Antonella Nedda questa sera. Donati è docente e saggista, insegna all'Università di Salerno, si è occupato di letteratura europea tra 7 e 900, di poesia italiana contemporanea con numerosi interventi. Nel 2013 ho vinto il premio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il premio Giuseppe Borgia, proprio per i suoi studi sulla poesia. I suoi volumi sono numerosi, anche in questo caso, mi invito a ricordarne alcuni, Nella palpebra interna, Percorsi novecenteschi tra poesia e arti della visione del 2014, critica della trasparenza, letteratura e mito architettonico, che sarà tradotto anche in spagnolo, La musica muta delle immagini, e il più recente è dedicato proprio all'opera di Antonella Nedda, in cui rappresenta uno studio monografico completo, Apri gli occhi e resisti l'opera in versi e in prosa di Antonella Nedda. Da poco ha anche curato, sempre sull'opera di Nedda, una antologia di testi nell'ultimo numero di nuovi argomenti. Nel ringraziare i nostri ospiti per aver accettato questo invito, e nel ringraziare il pubblico che ci segue, lascio senz'altro e volentieri la parola ad Antonella Nedda, che comincerà questo incontro, leggendo appunto un estratto da Geografie, e in seguito prenderà poi la parola Riccardo Donati, che darà avvio al dialogo. Grazie. Grazie. Considera. Considera i pianeti, specchi del sole e le costellazioni. Il tempo si consuma, lo spazio meno. Lo spazio si rinnova e non è vero che è vuoto. Questa camera, infatti, è migliore dei pensieri che tormentano o attraversano la mente. E' piena di cose usate, qualche tazza, scaffali, un armadio chiaro di betulla che può far immaginare la Finlandia. Non si muove nulla. Le cose sono solide, come i luoghi pieni di boschi. La finestra inquadra le nuvole. Oggi il sole è velato, il divano è grigio. Solo i pensieri in questa pace stormiscono con le loro voci. Il tempo li affila uno dopo l'altro. Li rende inconoscibili. Meglio rivolgersi altrove. Vicino alla vetrata dondolano rovi grigi. Tra le foglie dei pioppi vivono stormi di cornacchie. Si sentono gracchiare o gracidare, se si pensa alla loro etimologia. E quando una a terra abbastanza vicina da poter essere osservata, si nota la sua fronte sfuggente, il becco arquato e il grigio sterlina del suo corpo. Sono uccelli forti, che a volte si associano ai corvi. Di giorno cercano cibo. Alla sera tornano sui rami dei pioppi, che sono il loro riparo notturno. Sono definiti onnivori opportunisti. Mangiano insetti, carcasse, larve, uova e perfino anatroccoli. A queste abitudini alimentari si unisce una rigorosa monogamia. Spesso le coppie restano insieme tutta la vita. La disposizione delle monete o degli steli fa leggere non un risponso o una predizione, ma una specie di indicatore dell'umore, dello stato d'animo e forse dei cambiamenti impercettibili meteorologici che attraversano il cervello e dispongono la giornata. Il segno WAN, dissoluzione, non ha nulla di macabro. Anzi, si concentra sulla dissoluzione delle nebbie interiori attraverso il paesaggio. La nebbia si dissolve sul lago. Le nuvole si allontanano come le meschinità di ognuno di noi quando riusciamo a vederle. Avvicinamento Nel linguaggio militare, movimento tattico per portarsi dalla zona di attesa alla base di partenza per l'attacco. Casa invernale, con questo chiudo Una rara settimana di gelo Il gelo ci fa spostare come popolazioni primitive Una stanza è meno esposta al vento Il vetro della finestra tiene meglio la pioggia Le altre sono a nord Le vetrate hanno infissi vecchi L'aria le scuote Lo sai, l'energia è fatta di pacchetti finiti La luce è fatta di grani Alcune sostanze colpite possono generare una corrente minima Fotoni L'energia di un raggio di luce, scrive Einstein Non è distribuita in maniera continua nello spazio Fotoni Uno sciame di granuli, colori, frequenze Spettri Come sembrò ad Heisenberg L'uomo che spariva nella nebbia per poi riapparire nella notte danese Il caso agisce a livello atomico Probabilità, cieli stellati Una modesta inclinazione Grazie Niccolò Grazie, grazie Antonella per questa bellissima lettura E do quindi la parola senz'altro a Riccardo Donati Per l'avvio del vostro dialogo Grazie Buonasera Ringrazio naturalmente per l'invito E per il piacere enorme di dialogare con Antonella Anedda Avete sentito in questi testi che sono inediti al momento Perché il libro uscirà a marzo, Geografie Avete sentito qualcosa che per chi conosce l'opera di Anedda Può rimandare anche molto indietro Può rimandare anche alle prose giovanili Può rimandare i primi testi di residenze invernali C'è tutto un percorso nel lavoro di Anedda Che è fatto di spazi Che è fatto di lontananze Che è fatto di peregrinazioni Che è fatto di pagine e paesaggio Per così dire Pagine che vengono attraversate Non solo dagli uomini Ma anche dagli animali Che sono protagonisti spesso della poesia di Antonella Anedda I voli di questi stormi Di queste cornacchie di Considera Sono in qualche modo legati ai tanti voli Che nelle opere precedenti Qui nelle opere precedenti abbiamo assistito Sono voli che creano collegamenti Che creano curve Che creano deviazioni Che tracciano strade Insomma che formano dei luoghi Delle piste Come del resto sono anche le rotte migratorie Ecco io ho pensato stasera Per dialogare con Antonella E in qualche modo parlare di lei Senza doverla formalmente presentare Perché credo anche Che molti delle persone in ascolto Conoscano la sua opera O addirittura la conoscano molto bene Ho pensato di affrontarla Prendendo una parola chiave Diciamo così E provando a declinarla in vari modi Che credo siano utili per capire Alcuni aspetti peculiari del suo lavoro Questa parola è distanza È una parola geografica È una parola attualissima Ovviamente ci stiamo incontrando a distanza Ed è un concetto che io credo Ci aiuti in qualche modo a capire L'idea di Antonella Nedda Di scrittura come gesto etico Cerco di spiegarmi Chi conosce l'opera di Antonella Sa che per lei la scrittura È un atto di sottrazione In certa misura è un atto di rinuncia Di offerta di sé Se vogliamo anche qualcosa Che ha a che fare col preferirei di no Belvilliano in un certo senso Comunque qualcosa che contrasta Con una ideologia della competizione Della sopraffazione Ed è anche una presa di distanza Dall'io, dai narcisismi Dalle egolatrie Dalle tentazioni di autocelebrarsi Quello di Antonella Nedda È sempre un parlare verso È sempre un parlare a qualcuno È sempre un dialogo È sempre, potremmo dire Con un'immagine molto famosa Di Paul Celan Una stretta di mano Il testo come una stretta di mano Ecco, si vede bene A mio avviso già in questo testo Che peraltro è premiale È il testo che inaugura geografie Considera Si vede molto bene La natura della scrittura di Anedda Perché questo considera in fondo È molte cose diverse È un imperativo È un imperativo morale Rivolto innanzitutto a se stessi È un invito È un cenno civile A chi legge Ecco, in questa idea Per la quale Quello creativo Non può essere in nessun modo Un gesto solipsistico Un gesto sufficiente a se stesso Ma è un gesto che impone Una fuoriuscita Dal limitato perimetro dell'io Appunto per abbracciare Una dimensione collettiva O se vogliamo addirittura corale Dell'esistenza Io credo che si inneschi Un meccanismo In qualche modo di Non si può dire Abolizione della distanza Perché Perché la distanza Cercherò anche di dirlo Poi più tardi In altri In altri modi E magari con qualche esempio Concreto È qualcosa che non si può Del tutto abolire Non è il nostro potere abolirlo Ma di disobbedire Alla distanza Di disobbedire Al potere normalizzante E falsificante Della distanza Per cercare in qualche modo L'autenticità Di uno spazio Di un pensiero Che sia dato Dal raccoglimento Dall'intensificazione Della realtà E dal rifiuto Dei miti del momento La scrittura Come gesto Io credo Che Questo sia anche Forse uno dei Dei nodi Di questi incontri Che voi state organizzando Come Come riflettere Sul presente In modo Antagonista Non passivo Se non altro Ecco La scrittura Come un pensiero Che Che scuote Che non ripete Quel che già si sa Ma che cerca Di Offrirsi Come gesto Di resistenza Forse possiamo usare Anche una parola Più forte Come gesto Di disobbedienza Civile Quindi Disobbedire Alla distanza È un po' A mio avviso Un modo Un'idea Un concetto Che ci permette Di entrare Nell'opera Di Antonella Nedda Vorrei Declinarlo In quattro Direzioni Diverse Se Antonella Crede Lanciandole Così Degli spunti Sia In qualche modo Citando Dei suoi testi Che se poi Lei Crede Potrà leggere Che fanno parte Di quel blocco Di testi Che abbiamo Che abbiamo Fornito Sia Magari Reagendo O In qualche In qualche modo Insomma Le mie parole Dicevo Disobbedire Alla distanza È Il concetto Su cui vorrei Articolare Queste mie Riflessioni In quattro Tempi Un percorso In quattro Tempi Dicevo Il primo Disobbedire Alla distanza Della lingua Inautentica Della barriera Che la lingua Inautentica Ci pone Davanti C'è un verso Molto famoso Di Antonella Nedda Bellissimo A mio avviso Che abbiamo Ripreso Anche in questo Volume Poesia come Ossigeno Non esiste Innocenza In questa Lingua Ecco La distanza Può essere Anche questo Può essere La presa Di distanza Dall'inautenticità Della lingua Ereditata E delle Come dire Delle violenze Che la storia Ha esercitato Sulla lingua E che ci ha In qualche modo Trasmesso C'è un famoso Passo di Kafka Autore carissimo Da Nedda E non soltanto Credo Di saperlo Caro anche A Guido Mazzoni Lo stemma Cittadino Che è un Testo di Kafka Nel quale Leggiamo La lingua È il respiro Sonoro Della patria Ma io Sono un grande Asmatico Poiché Poiché Non conosco Né il cieco Né l'ebraico Ecco Questo lavoro Su una lingua Da grande Asmatico Immagine che forse Può piacere Ad Antonella È un lavoro Che lei compie Da ormai Molti anni In direzione Di un italiano Che appunto Accantoni Quanto Del lessico Patrio Per così dire La storia Ha reso Impronunciabile E che invece Si veda pronto Ad avvicinarsi Appunto A ridurre la distanza Da altri idiomi Che in qualche modo Sono chiamati Ad asciugare Lessicalmente Sintatticamente Ma direi Concettualmente La lingua madre E al contempo A nutrirla Ad arricchirla Quando non Ad affiancarla Come succede Con la famosa Limba Che è una Lo dico per i pochi Forse all'ascolto Che non lo sanno È una sorta Di coinè Di molte parlate Sarde E di quell'area Geografica Carissima Alla Alla biografia Di Anedda Che La cui famiglia Origine In quelle terre Ma che Terre che lei Ha sempre frequentato E alle quali Ha dedicato Molte pagine Ecco La limba È una lingua Di coine Appunto Una lingua Di fusione È una lingua Formata In parte Ereditata In parte Inventata Perché la La fusione Appunto È È stata fatta Non a freddo Ma a caldo In questo caso Dalla poetessa In limba Antonella Nedda Ha scritto Alcuni Dei suoi testi Più belli Ne cito due Che sono In questo Piccolo pacchetto Antologico Diciamo così Che si intitolano Appunto Limba Uno E Contro Scauro L'altro E Direi che la limba È Ancora prima Che un vocabolario Ancora prima Che appunto Una lingua Una postura Un modo Di guardare Alla realtà Che si lega Ed ecco di nuovo La distanza Che si lega Alla condizione Isolana Una condizione Di appunto Lontananza Dalla terra In particolare Non solo La Sardegna Ma L'arcipelago Della Maddalena E l'isola Della Maddalena Così care Ad Anedda Una distanza Dal continente Che pone Il soggetto Chi scrive Dentro e fuori Dalla nazione Dentro e fuori Dalla lingua Della nazione Ma l'isola È anche Un luogo Di raccoglimento Appunto Prima parlavo Di raccoglimento Di intensificazione Della realtà Un luogo Nel quale Si può leggere Studiare Pensare Con relativa Sicuramente Lo si poteva Fare meglio Prima che ci fossero I mezzi Attuali Ma insomma Con relativa Serenità Raccogliersi A studiare A pensare A riflettere A scrivere Insomma L'isola È veramente Uno spazio Di espressione E di vita Che sta anche Dentro e fuori Il presente Per certi aspetti C'è un bellissimo Testo Di Antonella In cui si ricorda Che i giornali Arrivavano Alla Maddalena Con qualche giorno Di ritardo E quindi Si viveva In un presente Sfalzato In qualche modo Si viveva In un In un ritardo Temporale Ecco Da questo punto Di vista Appunto Sono cercato Di essere Molto sintetico Spero Non troppo Ma questa È una prima Disobbedienza Alla distanza Che io trovo Nell'opera Di Antonella Nedda Cioè Disobbedire In qualche modo Alle ingiunzioni Della Di una Monolingua In qualche modo In qualche modo Autoritaria O resa autoritaria Dalla storia Lascio la parola Ad Antonella Grazie Riccardo Mi piace molto Questa Definizione Di disobbedire Alla 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 distanza Naturalmente Poi la critica Così Indiretta Scatena Una serie Di Di riflessioni Che avrebbero Bisogno Di Almeno per me Di Una sediazione Sentimentazione Ma Ma sì Questo è quello Che Insomma In una Vita Di Di Scrittura Usiamo questo termine Di 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 Ricerca Che Vale Per Per Chi scrive Seriamente Diciamo così Seriamente Senza Prendersi Troppo Su serio Questo Si è quello Che Che ho Che ho provato A fare E Il La relazione Tra Distanza Isola Continente Linguaggio È uno Degli elementi Insomma Sono i passaggi In cui Certamente Mi Mi Riconosco Mi aveva Anche Fatto Riflettere Il discorso Sulla Che facevi Sulla 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 Disubbidienza Attraverso Il linguaggio Ad Un Ad Una Storia A Quella Storia Che Azzera Azzera Le cifre Delle Delle Vittime Che Non Tiene Conto Di Quell'uno Quell'una Che Che Invece Esiste E che Forse La poesia Può A cui poi La scrittura Non solo La poesia Può provare A Dare Un Una Realtà Il Giustamente Ha citato Paul Celan La poesia Come Come Stretta Di mano E quindi Come Gesto Come Come Umanità Umanità Non antropocentrica Non so se Possiamo Usare Questo Questo Termine Mi Riconosco Nel Nell'asma Tra l'altro Era un termine Che usava Anche Mandestam Sono Peraltro Io Stessa Una 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 Grande Asmatica Che Si cura Poco Ma Che Soffre Di Asma Leggerei A questo Punto Un Testo Il testo Che aveva citato Riccardo E che inizia Con Non esiste Innocenza In questa lingua È tratto È tratto da un libro Che si chiama Notte di pace Occidentale Come Residenze Invernali Come dal balcone Dal corpo Come salva Con nome Sono titoli Paradossali Ironici Un po' Amaramente Ironici Perché Notte di pace Occidentale Ovviamente Non corrispondeva E non corrisponde A una Realtà Di Di pace Ho cominciato A scriverlo Durante Le guerre Del golfo Quando Appunto Queste 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 Notti Occidentali Cominciavano A non essere Così pacificate Così pacifiche Nel senso Che cominciavano A crescere E a Moltiplicarsi Intorno All'Occidente Che usava La parola Pace Ma che Cominciava Ad essere Assediato Ai suoi Confini Dalla realtà Delle guerre Pensiamo Adesso Appunto In Cosa succede In 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 Siria Sembra Non Avere Non Avere Non Avere Fine Quindi Mi ero Posto Il problema Della Dell'innocenza O meno Del linguaggio Che abbia Una risposta Ma Era per esempio Un interrogativo Che Aveva Che era presente Nella Nella poetica Di un poeta Che amo molto Che è Noventa Quando dice Io scrivo In Dialetto Perché alcune parole Durante il fascismo Come Famiglia Come patria Avevano assunto Un'eco 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 Retorica E questo È il testo Non esiste Innocenza In questa lingua Ascolta Come si spezzano I discorsi Come anche qui Sia guerra Diversa guerra Ma guerra In un tempo Assetato Per questo Scrivo Con riluttanza Con pochi sterpi Di frase Stretti A una lingua Usuale Quella di cui Dispongo Per chiamare Laggiù Perfino il buio Che scuota Le campane C'è una finestra Nella notte Con due sagome Scure Addormentate Brune Come gli uccelli Il cui corpo Indietreggia Contro il cielo Scrivo Con pazienza All'eternità Non credo La lentezza Mi viene dal silenzio E da una libertà Invisibile Che il continente Non conosce L'isola Di un pensiero Che mi spinge A restringere il tempo A dargli spazio Inventando Per quella lingua Il suo deserto La parola Si spacca Come legno Come un legno Crepita di lato Per metà Fuoco Per metà Abbandono Grazie Antonella Di questa lettura Credo che Sia un po' Al buio Però Dopo provo Ad aggiustare Le luci Riprendo Allora Se siete d'accordo Continuare Su questa falsariga Della disobbedienza Alla distanza Che credo Davvero Possa essere Un modo Per entrare Nell'opera Di Antonella Con un secondo passo Disobbedire Alla distanza Dello sguardo Gerarchico Dello sguardo Autoritario C'è una Una prosa Molto bella In cosa sono gli anni In cui Si legge Una Definizione Del dettaglio Il dettaglio Scrive Antonella Costruisce Non solo L'orizzonte Ma L'autenticità Dello spazio Ecco Se noi guardiamo Cosa Antonella Chiede alle immagini Ma anche Se vogliamo Prendere Una Una Suggestione Di 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 Mitchell Cosa Le immagini Chiedono Chiedono Alla poetessa Che cosa In qualche modo La sollecitano In che modo La sollecitano Ecco Abbiamo Secondo me L'idea Che In qualche modo Ogni visione Richieda Un intervallo Richieda Uno spazio Richieda Una distanza Tra Lo sguardo E il suo oggetto L'oggetto Resta impercepito Naturalmente Questo lo scriveva Erwin Strauss Resta impercepito Qualora Ovviamente La distanza Sia annullata La distanza È la forma Spazio-temporale Del sentile C'è un ripetuto Va e vieni Tra il contatto Visivo Uditivo Tattile E Tra appunto Tra il soggetto E la cosa percepita Ora Quello che Credo Interessante È il fatto Che Antonella Edda Nei suoi testi Attribuisce Un senso Ulteriore A questo Dato fisico A questo A questo Come dire Viaggio Di spola Della percezione Cioè La distanza È la consapevolezza Di un oiato Di un Di un Di un Abisso Incolmabile Ontologico Direi Che Separa L'essere Umano Come entità Fisica Vivente Diciamo così Quindi Trascinata Dai fenomeni In balia Della storia In balia Degli eventi E delle circostanze Dalla perfezione Per esempio Di un paesaggio Di un quadro No? I famosi Quadri Che sono adorati Nei musei No? Di Di Antonella Cerco di spiegarmi C'è un'altra prosa Molto bella Di Antonella Che si intitola Bonifacio notte In cui Che purtroppo qua Non è Antologizzata In cui si legge Davanti a un'immagine A un foglio scritto Davanti a un quadro O a un libro La voce Come il corpo Indietreggia Non esattamente silenzio Ma voce Che sale E si ferma Perché intuisce La distanza Di ciò Che è verticale Di quello Spazio Un grande Un piccolo Abisso Che ci separa Dalle cose Ecco La distanza Quindi in qualche modo Rappresenta Direi Qualcosa di molto Concreto Il fronteggiarsi Di due verticali Quella del corpo Dell'osservatore O dell'osservatrice In questo caso E quello Del paesaggio O della tela O del muro O dello schermo E anche contemporaneamente Però è chiaro Una metafora Del nostro essere Al mondo Cioè L'indizio Di una Di una separatezza Costitutiva Per così dire No In un altro testo Della luce Delle cose Leggiamo Quei segni Laggiù Sono I geroglifici Del nostro Spavento Delle nostre Attese Di ciò Che trasmutando Ci Abbandona Ora Che cosa Voglio dire Che in qualche modo Nell'opera di Anedda Si assiste A una disobbedienza Della distanza Una disobbedienza Mentale In qualche modo Essendo il corpo Impossibilitato Essendo la percezione Impossibilitata Se il corpo Troppo aderisce No A ciò Che sta Percependo E In questo Si ha Una Una forma Di impertinenza Diciamo Di impertinenza O di ribellione All'imperativo Normalizzante Della distanza Cioè Ci si immerge In quei segni Laggiù In quei geroglifici Come dicevo prima Non si parla Di loro Ma si parla A loro Appunto In qualche modo Per immersione Per avvicinamento Che è il titolo Della breve prosa Di geografie Che Antonella Ci ha letto Pochi minuti fa Ecco Perché allora Disobbedienza A uno sguardo Gerarchico Autoritario Perché appunto Non c'è la contemplazione Ordinata Rigorosa Ricordiamo Che Antonella Nedda È di formazione Una storica Dell'arte È stata Educata A interpretare E conoscere I particolari I dettagli Facendo sistema No? Creando dei sistemi Gerarchici In qualche modo Di Di Spazialità Ecco Come autrice Come Come poetessa Come scrittrice La contemplazione Ordinata Rigorosa Scientifica Da iconologa Diciamo così È È Dismessa E si ricerca Invece Una vertigine Un Un disequilibrio Produttivo Per così dire Un Generoso E appunto Impertinente In qualche modo Sprofondare Fino al punto Di perdersi Nell'immagine E detto Altrimenti Insomma C'è Credo Nello sguardo Di Antonella Un'esperienza Di abbandono Da cui Deriva appunto Poi la scoperta Di quella Di quella Forza Molto Potente Indocile Evolitiva E per lei Terribilmente Interessante Diciamo così Che è il dettaglio Che non deve fare sistema Appunto Con altri dettagli Ma è direi Piuttosto Un Un provocatore Ottico Qualcosa Che si dirige Verso L'occhio Quasi ammiccando Appunto Per invitarlo A disobbedire Alla distanza Da questo punto Di vista Credo Credo Che ci sia Un elemento Davvero Interessante Nel lavoro Di Antonella Sulle immagini Si tratti appunto Di Quadri Come spesso Avviene Nei suoi testi Si tratti invece Di paesaggi Come succede In questo Geografia Ad esempio Ti lascio la parola Ebbene Sì Sono un'iconologa Ho studiato Con Augusto Gentili E mi sono Laureata Con questa Tesi Super iconologa Perché era su alcuni Quadri Erano A Venezia E devo dire Mi è rimasta Questa Questa passione Per Per l'indagine Anche Quindi Per quello che poi Un Un quadro Rivela Anche per esempio Sulle committenze Eccetera Eccetera Però è verissimo Quello che dice Riccardo Che C'è stata Una Precoce Disubbidienza Sì A questo sistema Gerarchico L'esame Di ammissione Al perfezionamento Consisteva Nel Riconoscere Che ne so Un piede Di Di Sante Peranda Insomma Di 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 Un piuttore Non Non facilmente Riconoscibile Quindi C'era Questa Quest'allenamento Al Al dettaglio E a distanza Di tanti anni Poi È nata Appunto La La vita Dei dettagli Anche Sì Come Forse È vero Come In pubblico In pertinenza Nei confronti Di una Di un Sì Di un sistema Gerarchico Mi sembra Mi sembra Il termine Il termine Più Appropriato Per quanto Adesso Mi ricollego A qualcosa Che aveva Detto Riccardo Donati Prima Che è collegato A questo Tema Della Disobbedienza Relativo All'uso Della Limba Del Sardo Perché In qualche Che modo Usare Questa Limba Può essere Letto Come Una Disobbedienza Nei confronti Di un Di un Certo Italiano In realtà La limba È Considerata Come Dice La parola Proprio Una 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 Lingua A parte E Vicinissima Al Al Latino Naturalmente Ci sono Poi Delle Influenze Molto Diverse Tra Nord E Sud Il Sud Il Campidanese Ha avuto L'influenza Spagnola E quindi Moltissimi Termini Sono Influenzati Da questo Il Nord Invece Il Gallurese Ha questa Vicinanza Anche Con Con La Corsica Con La Francia Il Centro Invece Il Nuorese È La Limba Per Eccellenza Quindi Il Sardo Il Sardo Più Puro Io Sono Sarda Una Generazione Sono Nata A Roma Ma Questa Queste Sonorità Credo Che Abbiano Poi Influenzato L'uso Del 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 Italiano Con Anche Questa Consapevolezza Della Distanza Della Della Complessità Poi Dell'isola Perché è vero L'isola è Raccoglimento Ma l'isola è Anche Esposizione Esposizione Eventi Esposizione Esposizione Alla Distanza Da un'isola Non si può Da un'isola Ci si allontana O Volando O andando Per Per mare Quindi Non è Possibile Scappare A piedi E quindi Io sono Molto Affascinata Dal Continente Da queste Da queste Aperture Dalla Dallo Spalancamento Delle Distanze Infatti Quello Che Ho provato A fare In geografia È Stato Un libro Di Per Lustrazioni Ovviamente Mentali Ma C'è Questa Attrazione Per Per Lo Spazio Aperto Il La Prima Folgorazione Che ho Avuto Da Ragazzina È Stato Sì Ho detto Tante volte La poesia Di Block Che ho Ascoltato Alla Radio Ma Anche La lettura Di Guerra e Pace Che In Strano Cortocircuito Le steppe L'apertura Lo Spalancamento Di Questo C'è un verso Molto bello Di Van Destam Che dice Guardavo Avvicinandomi Un oriente Di Conifere Quindi Questo Questo Est Filippo Giacottet Un poeta Che io Amo Mottissimo Ha parlato Di Un Spalancamento Ad Est Lui dice Del Del cuore Quindi Ecco Queste Aperture Hanno Sempre Avuto Un Un ruolo Importante Nel Nel In quello In quello Che scrivo E il dettaglio Mi interessa Nella misura In cui Anche il dettaglio Quotidiano Mi interessa Nel suo Nel suo Interagire Con Un disegno Più ampio Un esempio Per tutti È La La cucina Di Emily Dickinson Che poi Si 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 trasforma Nel Nella Visione In una Visione Marina Quindi Anche Questa Forse È Disobbedienza Forse Posso Leggere Una Poesia In limba Questo Punto La Leggo La Leggo Prima In italiano Lingua Non Non hai Non hai Bara Da trascinare Sulla Neve Ma un cane Che trema Nel buio Madre Lingua Sei triste L'aglio Si fa nero Nel rame Il rombo Del camino Sale I venti Si confondono Eolo Soffia E Babele Vive Figlia Ma un cane A tremula In Si scurio Limba Madre Sest triste Sazus Agnettigat In Sassartaina Sam Mugi Danseat Sos Ventos Si Confundet Eolo Survat Et Babele Si Sparget Finza Limba Tracitas Agineperu Una Tremita Tua Nascinde Este Castora Delibrina Im Esistendos Esas Nues Saz Nues As Azzurta Fugilte Is Cancellande Da Echelu Onzi Zenias Contro Scauro Scauro Era Proconsole In Sardegna Nel 54 Avanti Cristo Venne accusato Di Concursione E di Aver Spinto Una Donna Al Suicidio Dopo Averla Violentata I Sarbi Vennero A Roma Per Testimoniali Contro Scauro Però L'avvocato Di Scauro Si chiamava Cicerone E Scauro Fu Assolto E c'è Una Orazione Di Cicerone A favore Di Scauro In cui Cicerone Beffa Questi uomini Rozi Coperti di Pelle Probabilmente Puzzolenti E dice Che Sono Testimoni Inaffidabili E che Il Il Come dire La loro Testimonianza Non può Essere Presa Sul Serio E che Vengono Da un Paese Da Da un Luogo In cui Perfino Il miele E fiele Miele Amaro Effettivamente Contro Scauro Non so Scrivere Di Roma Troppa Bellezza Eleganza Tuniche Di lino Forse Così Venti Secoli Fa Pensarono Quei Sardi Venuti A chiedere Giustizia Contro Scauro Gente Senza Fete Terra Dove Perfino Il Miele E fiele Così Diceva Cicerone Nella Sua Orazione Ora Il suo Nome Gira Tra Le Pietre Minuscolo Veloce Ma Come Allora Muoiono I Testimoni L'ape Si affatica Resiste Il Miele Lingua Di Cardo Corbezzolo Sale Non Isto E Scrivere De Roma Meda Belluia De Hidu Muda Sellini Forzi Goi Sunt Binti Seculus Pessent Cuddo Sardos Benitos A Dimandare Giustizia Contra Scauro Zente Ceneide Terra Ue Peri Sumele Est Hele Goi Narri A Cicero Infeddu Suo Ora Nesupetras Bortat Suo Lumene Lestru Minutu Ma Sicutera Morte Sos Dinsimonsos Sabe Tribulat Rechete Sumele Limbe Lidone Gardu Et Sale Riprendo sempre più nel buio ma non so come fare a illuminarmi altrimenti e dunque la terza declinazione diciamo così del di questo disobbedire alla distanza e cui avevo pensato è il disobbedire alla distanza che che è la morte senza naturalmente naturalmente per questo presumersi immortali questo è un tema di lunghissimo corso nell'opera di Antonella Nedda l'idea della poesia come gesto etico chiamato a radunare a creare una comunità e a recuperare i nomi inghiottiti i nomi perduti i nomi trascorsi i nomi distanti in qualche modo per citare appunto il quaderno di traduzioni che è appena tornato in libreria con una postfazione di Andrea Cortellessa per Arani i nomi che naturalmente quindi salva con nome ecco l'idea di questa di questa serata naturalmente nomi non come monumenti però nomi come parole che passano nella trama del tempo in cerca di di un dialogo che cercano di di favorire di instaurare un dialogo da questo punto di vista la scrittura di Anedda è io credo veramente una costruzione di un reticolo di relazioni al di là dello spazio e del tempo appunto a formare una comunità transtemporale che non vuol dire attenzione una comunità eterna ma una comunità che nello spazio fisico della pagina riesce a collegare più tempi e più culture e più luoghi quindi in qualche modo una scrittura che si che disobbedisce alla distanza ricucendo i rapporti riannodando la materia che è stata strappata dal dal tempo mettendo in connessione questa è un'immagine molto bella che forse sarà familiare a chi conosce la poesia di Antonella Nedda l'idea della della barriera d'acqua che separa i vivi dai morti in qualche modo una barriera che rende che rende sordi e che rende che impedisce la comunicazione che attutisce le parole ecco questa questo tentativo quindi di raggiungere una una in qualche modo di portare sulla pagina una coralità di destini ecco c'è un testo c'è più di un testo che si intitola coro nell'opera di Antonella in particolare in dal balcone del corpo uno di questi fra l'altro è nell'antologia forse Antonella vorrà leggercelo questi questi destini che sono chiamati in qualche modo sulla pagina che sono convocati nello spazio della pagina un po' come sono del resto convocati nello spazio della tela nel caso degli artisti dei pittori o dello schermo nel caso dei video artisti o dei cineasti naturalmente hanno a che fare con gli spettri con i fantasmi che sono presenze molto vive nella sembra una contraddizione in termini ma sono presenze molto vive nella poesia di Antonella sono sempre colmi di desideri sono tesi verso la vita sono loro stessi che cercano questo dialogo e questa ricocitura dei destini e naturalmente non c'è in questo una volontà di resistere alla morte perché in qualche modo alla morte si disubbedisce non per resisterle ma diciamo così per fantasticare un'impossibile reversibilità del tempo quanto piuttosto per liquidare ogni presunzione di immortalità e di onnipotenza che è in fondo io credo di interpretare così molti testi di Antonella è in fondo la matrice di quella pretesa di dominio che appunto è il motore di tanta parte della violenza della storia c'è un verso di Gasallo un testo di storie che pure forse Antonella potrebbe leggerci che recita l'intelligenza di cui facciamo vanto risputa il passato nel presente ecco davvero credo che una delle ragioni per cui la poesia di Antonella la sua opera sia tanto ammirata è questa presa di distanza dalle dalle politiche dell'atrocità per così dire lavorando per un per un riscatto dell'incompiuto dell'inespresso dei nomi dei nomi perduti dei nomi distanti dei nomi lontani insomma tutto quello che con con una bellissima immagine di Walter Benjamin potremmo chiamare il passato oppresso ecco restituire la parola a tutti quelli che scompaiono a tutto ciò che inesorabilmente frana che frana che scivola per non curanza o per calcolo o per deliberata azione politica verso l'oblio da questo punto di vista altri due testi secondo me splendidi dell'ultima raccolta storie sono Confini e Oikos sì uno è un 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 gasal che disubbidisce molto al al gasal a quello che il gasal perché poi non ha non ha traccia di d'amore come scroscia la pioggia sui tetti nella notte incipiente come rende accogliente la luce del forno tra la pila dei piatti nell'ombra lo sai alcuni fungono altri sono macellati nel sonno allevante il rosso confonde il nostro occidente il sangue stinge nelle ufrate l'intelligenza di cui facciamo vanto risputa il passato nel presente sì è ovvio che proviamo tutti a scrivere a dare più realtà alla realtà a intensificare la realtà e quindi anche obliquamente perché non è detto che la poesia debba essere può esserlo ovviamente civile sempre in modo diretto ci sono molti modi per parlare politicamente però bisogna trovare le parole spesso non è detto che le parole più emozionate siano almeno per me siano quelle che si avvicinano di più a quello che vogliamo dire perché la retorica è sempre una una cattiva consigliera anche se spesso poi non dico per moralismo è perché poi contiene in sé la tentazione della scorciatoia nel senso negativo nel senso che magari è la via più più facile e mi veniva in mente qualcosa che che dico perché ci sto pensando in questi in questi giorni ovviamente c'è questa realtà del virus tutto quello che sappiamo e su cui si è detto molto una cosa che che è preoccupante è il il fatto che molti diritti civili in questo momento rischiano di diritti calpestati rischiano di passare sotto sotto silenzio per esempio appunto zacchi in 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 Egitto e così moltissime moltissime altre cose allora forse potremmo unire le forze e fare qualche cosa ma questo è un ovviamente un discorso molto ampio leggo Oikos che è una poesia dedicata molto privata dedicata ai miei genitori Oikos mi illudo di raccogliere queste vostre vite ancora nonostante gli anni non compiute così mi sembrano viste dal basso mentre vi affacciate a salutarmi un po' timidi abbracciati tra le hortensie schierate sul balcone dormirete tra poco cullati dal senza niente del televisore che nessun bar a treguaglia e poi furtivamente in piena notte dimenticando di spegnere le luci andrete verso il letto per sognare così mi raccontate l'indomani e io penso che bello questo ancora di suoni che continuano a ronzare di sabbie mobili ma secche come in quel documentario visto ieri di nomadi e altopiani forse in Asia centrale qui ci sono devo dichiarare due sono dichiarati nelle note due furti da Zonzotto che il senza niente del televisore e poi forse la parola baratrofi che c'è tanto spesso e non trovo confini ma forse posso leggere Esili che ha un epigrafe da Tacito che poi è il il chiaro ispiratore di questo libro pieno il mare di Resuli gli scogli macchiati di sangue avevo aperto riaperto a caso storie e questa frase mi sembrava terribilmente attuale e questo è un fatto reale di due migranti che erano stati trovati affogati e abbracciati oggi penso ai due dei tanti morti affogati a pochi metri da queste coste soleggiate trovati sotto lo scafo stretti abbracciati mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo e cosa ne sarà del sangue dentro il sale allora studio cerco tra i vecchi libri di medicina legale di mio padre un manuale dove le vittime sono fotografate insieme ai criminali alla rinfusa suicidi assassini organi genitali niente paesaggi solo il cielo d'acciaio delle foto raramente una sedia un torso coperto da un lenzuolo i piedi sopra una branda nudi leggo scopro che il termine esatto è livor mortis il sangue si raccoglie in basso e si ragruma prima rosso poi rivido infine si fa polvere e può sciogliersi nel sale ecco io Nicolò se Nicolò Scaffai se me lo consenti rapidissimamente toccherei l'ultimo punto grazie Carlo avevi parlato di un quarto punto che molto sinteticamente possiamo approfittare per concludere questa prima fase dell'incontro sì appunto ci terrei a parlarne perché è un aspetto secondo me estremamente interessante del lavoro di Antonella degli ultimi anni soprattutto è una delle cose anche che più la caratterizza secondo me nello scenario dell'attuale poesia contemporanea pur avendo origini bene antiche da Lucrezio a Leopardi insomma ed è sempre nella falsariga del disobbedire alla distanza diciamo la disobbedienza all'antropocentrismo alla distanza che l'uomo mette tra sé le altre creature in una in una così in una idea di superiorità c'è un verso molto bello di residenze invernali in nessun tempo c'è bisogno di noi che dimostra che come dire questo questa riflessione non antropocentrica o anti-antropocentrica viene da lontano ma sempre di più negli ultimi anni si assiste nell'opera di Antonella a un tentativo diciamo così di liberare la scrittura dalla scala umana appunto dalla dalla referenza antropocentrica dell'uomo misura di tutte le cose per così dire recuperando anche un rapporto molto forte di cui credo ci sia veramente bisogno nella letteratura di oggi fra letteratura pensiero pensiero scientifico riflessione scientifica l'astronomia la geologia sono discipline che la interessano molto le tecnologie sono presenti nei testi di Antonella cosa non poi così frequente in tanta poesia contemporanea da questo punto di vista naturalmente l'anti-antropocentrismo si salda anche a quanto dicevamo poco fa sul destino di dissoluzione umana che in qualche modo è affrontato da un'altra prospettiva da una prospettiva potremmo dire così cosmica stellare appunto prima evocavo il nome di Leopardi e chiederei Antonella se vuol dirci qualcosa su questo e poi se avesse in animo di leggerci pelle polvere che credo sia un testo da questo punto di vista particolarmente interessante ecco subito forse si può proiettare questo sì questo interesse per 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 scienza si è si è acutizzato so come dire studiando sempre amato moltissimo Charles Darwin come scrittore poi ho scoperto il nonno Erasmus che è un proto-evoluzionista e questa queste letture insieme insieme ad altri interessi che ho che ho sempre avuto si si legano a questa a questa visione di cui di cui parla parla Riccardo Donati e naturalmente a monte c'è c'è una 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 visione anti non solo anti antropocentrica ma che si lega ad una consapevolezza della della nostra adesso sto per dire un termine troppo di moda che poi può rimandare ad altro che non non mi riguarda insomma alla transitorietà e alla non stavo per dire impermanenza ma però sì alla fugacità che era ben presente a un altro autore che io amo moltissimo che è Lucrezio pelle polvere è dedicata tra l'altro a Elio Grazioli che ha scritto un libro molto bello sulla sulla polvere pelle polvere non esistono nomi autrici autori volano soltanto le parole si mistiano alla pelle che cade sui divani quella che ogni giorno perdiamo io fusca le mensole le sedie i davanzali e contro cui ci ostiniamo spostandola facendola aspirare e che chiamiamo polvere questo resta la polvere e i suoi atomi sparsi catene cateti in realtà c'è un errore cateti e ipotenusa per il teorema che chiamiamo poesia è un errore interessante catene ma sono cateti cateti e ipotenusa grazie grazie Antonella per questa lettura finale grazie Riccardo Donati la chat è aperta il pubblico presente nella stanza da questo momento può se lo desidera prendere la parola o chiedere che viene cadata la parola e nel qual caso gli verrà aperto il microfono oppure scrivere un commento una domanda una questione nella nella chat lo stesso vale per youtube se qualcuno ha dei commenti verranno poi trasmessi e credo che ci sia da youtube un commento che ha un apprezzamento da parte di Ida Crispino che scrive che il tema della disobbedienza alla distanza è di straordinaria attualità e ringrazia per i numerosi spunti di riflessione bene chiedo quindi se qualcuno vuole prendere la parola vedo che Guido Mazzoni ha acceso lo schermo e mi lascio la parola grazie Antonella grazie Riccardo per questo dialogo molto bello volevo volevo chiedere una cosa Antonella tu non partecipi quasi mai anzi mai alle discussioni di poetica e tantomeno alle polemiche letterarie giustamente c'è però un'eccezione recente molto garbata e condotta sul filo dell'ironia che però porta a un tema sostanziale e questa eccezione è in uno dei testi più significativi del tuo ultimo libro di storie è Nuvole Io quando dici vorrei disfarmi dell'io è la moda che prescrive la critica ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome cioè rivendichi la natura lirica della della forma che ha la tua poesia una delle delle cose più straordinarie della tua opera è il modo in cui sei riuscito a costruire una prima persona che non saprei definire in altro modo se non come credibile una prima persona cui si crede che ha una forza di verità nella nella sua parola che è una verità esistenziale allo stesso tempo una verità collettiva e secondo me ci sei arrivata ci sei arrivata allentando i giunti e in qualche modo tagliando la tela rispetto ai modelli che avevi al momento in cui hai hai cominciato a scrivere e a pubblicare tra le fine del mutante in un sedio del 90 ecco volevo volevo appunto chiederti qualcosa sul sul modo in cui vedi articoli e difendi la tua prima persona la poesia che hai citato era appunto una poesia scherzosa anche su me stessa e devo dire che io per prima non credo che esista un'identità proprio per questo mi permetto di di giocare con con l'io e mi sembra sempre un po' buffo che ci si ponga il problema dell'io perché l'io non esiste l'io come non esiste come si sa che la coscienza è una costruzione una mappa evolutiva e quindi questo dibattito sull'io veniva un po' preso in giro ma in questa presa di distanza c'è anche il mio io e non come dire sono sempre un po' stordita di fronte a questo a questo dibattito e e questa poesia come tante poesie poi è nata si è costruita intorno a dei a delle a delle idee e come sappiamo tutti a un certo punto una poesia funziona con con tanti tanti mattoncini forse la posso leggere nuvole io il documento viene salvato lo schermo torna grigio lo stesso grigio topo del cielo adesso mi alzerò per sparecchiare vorrei disfarmi dell'io è la moda che prescrive la critica ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome al massimo lo declino al plurale dico noi e mi sento falsamente magnanima dire voi o tu mi dà disagio come accusare la terza persona mi confonde ogni volta con il sesso alla fine torno all'io che finge di esistere ma è una busta come quelle usate per la spesa piena di verdure o pesce surgelato io con l'io mi nascondo chiamando chiamando a raccolta quello che sappiamo abbiamo paura ancora non è chiaro come finirà la storia dunque riapro la finestra dello schermo ritrovo il documento esito davanti alla tastiera salvo in una nube l'insalvabile la parte è una è un testo anche come spesso nelle cose che scrivo di auto interrogazione di battito di dibattito interiore quindi in realtà non c'era tanto una polemica quanto un interrogare me stessa ecco e interrogare questa cosa che chiamiamo io che cos'è che esiste davvero che insomma è una convenzione eccetera eccetera è vero la terza persona mi confonde però se la leggo mi piace ovviamente per quanto mi riguarda dire voi o tu confina con l'accusare il dire noi a volte mi sembra confinare così con una con una ironicamente con una magnanimità e quindi alla fine torno all'io che finge di esistere questo penso finge di esistere ma è una busta è una busta come quelle usate per la spesa quindi poi ho usato come al solito poi dei dettagli reali la busta della spesa con dentro la verdura oppure il pesce sul gelato quindi questo certamente l'io quella parte di me che chiamo io non è un io non è un io super mistico non so come dire mi spiace che a volte è stato c'è stata così una come si dice un un fraintendimento in senso non so come mai sia successo spiritualistico non che ci sia nulla di male o mistico che non che non mi appartiene o così un'effusione lirica non c'è ho sempre dialogato con questa cosa che chiamiamo io mettendola però in discussione quindi come non difendo l'antropocentrismo non difendo un io lirico che domina o si impone ma discuto un po' con questi pronomi mi interessa molto come i pronomi possono slittare c'era un libro molto bello di Gadamer su Zell che sei tu chi sono io poi ognuno si sa dà al proprio io tanti nomi può essere anche l'orrore per l'io ma anche questo è un io adesso non so se ti ho risposto grazie hai risposto hai risposto molto molto bene dicendo cose che illuminano la tua poesia e che personalmente condivido in pieno appunto una delle cose che la tua poesia sa fare molto bene è costruire un modello di prima persona appunto come busta della spesa se vuoi però acclimatato al presente a quella appunto dialettica tra i pronomi che ci portiamo dietro e il senso che questi pronomi siano contenitori che si riempiono di altro di altri voci modelli linguaggi non nostri esperienze collettive e questo la tua poesia lo illumina molto molto bene in ogni fase della sua opera grazie grazie nel frattempo sono arrivate nella chat diverse diverse domande e commenti che che leggo e che potete leggere se Antonella ha voglia di rispondere dunque il primo è di Sabatina Napoletano che ringrazia dell'incontro e chiede vuole chiedere se la Maddalena nel momento in cui diventa geografia per una trama narrativa seppure breve per un romanzo breve può essere oggi per il contemporaneo e il futuro una buona idea e vuole chiedere anche se l'isola come luogo dell'anima può popolarsi di coloro che ci abitano in letteratura per il destino letterario comune a cui siamo chiamati ecco questa era la prima in ordine di apparizione diciamo delle questioni chiedo ad Antonella se ha qualche se desidera insomma commentare o rispondere in qualche modo poi ci sono altre vogliamo metterle tutte insieme poi forse direi che può essere una buona idea io leggerei continuare a leggerle anche le altre arrivate finora una domanda invece da Davide di Falco che chiede se nel caso della scrittura di Anedda è più la poesia ad andare verso la prosa o più la prosa ad andare verso la poesia e se c'è un rapporto con la grande prosa sarda la satta adazzeni Stefano Elia Maroè che osserva a fronte di tanta immediatezza che oggigiorno si riscontra anche nella poesia che valore hanno per lei la costituzione del libro e la progressione nella sua struttura e ancora Francesco Brancati mi ha incuriosito la definizione di ironici fornita per i titoli delle sue raccolte io invece avevo sempre inteso il titolo notti di pace occidentale come un'indicazione geografica che sottintende un giudizio etico-politico noi a ovest occidente abbiamo le notti di pace a est invece c'è la guerra non viare nessuna volontà di alludere a una demarcazione di questo tipo grazie grazie intanto a chi è intervenuto sì se la maddalena può diventare un oggetto di un romanzo certamente è un luogo come sappiamo il giotto che non è stato realizzato molti problemi connessi con tutto questo certo l'augurio è che si 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 popoli come come credo o credo insomma come raccontava mia mia nonna e poi mia bisnonna un tempo era chiamata la piccola Parigi perché era in un contatto con così diversamente dal dal centro della Sardegna anche per motivi poi militari perché c'era c'era la base della della marina e quindi aveva un'altra un'altra fisionomia la sfida sarebbe si si ripopolasse in modalità che non so non so non so non so prevedere ma certo questo è un discorso molto ampio che riguarda la difesa del territorio dall'abusivismo che riguarda non solo la Sardegna ma molta parte dell'Italia la seconda domanda sì assolutamente sì la prosa ora non so se vado verso la prosa o se se la prosa va verso la poesia o la poesia verso verso la prosa ci sono delle delle sistemazioni che credo obbediscano stavolta obbediscono ad un'esigenza proprio di costruzione per cui alcune alcuni testi hanno bisogno dell'assiepamento della della prosa e altri invece di una distanza maggiore di un'obbedienza al ritmo quindi di una disobbedienza agli spazi abituali ma soprattutto Salvatore Satta è un grande è un grande maestro tra l'altro appunto il giorno del giudizio è un romanzo meraviglioso e mi pare Steiner abbia scritto il giorno del giudizio come di un romanzo in cui c'era uno stile in cui c'era si sentiva la presenza di Tacito Tacito non è ovviamente Tacito un conservatore c'è anche delle cose orribili però qui torniamo ai pronomi però è capace di dire noi noi romani abbiamo creato un deserto abbiamo ucciso abbiamo graziato e quant'altro e lo abbiamo chiamato pace quindi ha comunque la consapevolezza della violenza del potere e quindi sì la prosa di Satta e un romanzo meraviglioso come passavamo sulla terra leggeri hanno avuto un grande un grande peso sulla sullo scrivere poesia poi la prosa è una grande una grande maestra come penso che la poesia possa ammaestrare la prosa si ammaestrano a vicenda le traduzioni l'originale ammaestra super effetto ah stavo dimenticando la terza la terza domanda beh è una lettura effettivamente le notti di pace occidentale possono essere lette lette così però anche l'occidente si ha le sue le sue guerre meno 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 evidenti di quello poi che succedeva che stava succedendo ad oriente però è così effettivamente la ringrazio non avevo pensato a questa sì l'avevo sempre visto o almeno nelle mie intenzioni poi giustamente quando si scrive poi nel bene e nel male si si abbandona a quello che si si scrive alle letture effettivamente questa è una lettura a cui non avevo non avevo pensato ma che mi fa riflettere grazie dunque salvo mio errore forse c'è ancora una domanda di Stefano Eliamaro che in sostanza chiede quale valore ha la costituzione del libro del libro e sì la progressione della sua struttura scrive esattamente posso posso rispondere così magari come 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 ho sempre lavorato quello che ho scritto ovviamente non non c'è una una raccolta di semplici di testi poi almeno nelle nelle intenzioni c'è la la volontà di costruire un'architettura del del libro per cui non so per esempio in storie i testi più tardi sono all'inizio e invece poi alcuni all'interno perché poi sì c'è una progressione ma c'è soprattutto un un tentativo di dialogo fra le varie parti del del libro non so se ho se ho capito bene la domanda c'è sempre nella 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 costruzione di un libro una un tentativo poi di definire un paesaggio attraverso attraverso le le pagine ecco in questo senso più che una una progressione nel senso che come succede non so in un romanzo si va verso una una fine c'è sempre ci sono sempre due 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 elementi due verità mi sembra sempre che l'ultimo libro sia effettivamente l'ultimo cioè che non possa essere tranquillamente l'ultimo e poi c'è un un certo punto scatta un ricominciamo che poi ricominciamo no ricominciamo becchettiano che riguarda poi l'eterno fallimento della della scrittura della della nostra scrittura insomma di qualsiasi tipo ma che comunque ci fate cominciare grazie ci sarebbe ancora una domanda scrive francesco tonello in una sua poesia nedda scrive perché parlo da un'isola il cui latino ha tristezza di scimmia citando dante penso che il recupero del latino da una prospettiva anticlassica antiromana l'utilizzo del sardo siano intrecciati e si inseriscano in una poetica di attenzione ai vinti ai popoli prevaricati all'umanità perduta mi incuriosiva sapere se in questa posizione che incrina la cultura conquistatrice ci sia un aspetto legato anche a una questione di gender e di patriarcato grazie francesco sì allora se dante scrive appunto che i sardi parlano il latino come le scimmie come le scimmie quindi in qualche modo veniva rivendicato questo esatto come riflessione sul limite e il la non so se c'è una riflessione sul genere c'è sicuramente una riflessione sulla sull'emarginazione e quindi questo senso sì anche sul genere e sulla su questo continuo confronto tra lingua del potere e immarginazione questo questo mi interessa mi interessa moltissimo anche nella poesia contro scauro c'era 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 questo e sì poi in realtà il latino è sopravvissuto moltissimo nel sardo e nel sardo dell'interno della della sardegna è il non voglio chiamarlo dialetto altrimenti vengo strozzata ma è la lingua il linguaggio il dialetto che ha più legami con il con il con il latino e quindi questa scimmia questo parlare è un modo delle scimmie poi queste scimmie lo hanno in qualche modo conservato c'è sempre questa imprevedibilità nella nelle vicende nella nell'accadere delle cose grazie leggo ancora una domanda la quale emerge riferimento a un artista che credo cara ad Antonella di Valeria Palleschi è la domanda che dice che l'ha colpita una possibile affinità di temi tra la poetica di Antonella Nedda e la ricerca dell'artista Maria Lai che lei Sarda ha realizzato un ciclo di geografie e ha insistito molto sul vuoto e la distanza assolutamente sì infatti in geografie viene citata proprio una frase di Maria Lai in cui lei dice adesso non la ricordo perfettamente a memoria insomma vedevo nascere in me grandi di lontananze e questo è interessante perché dall'isola Maria Lai a un certo punto abbandona le gallerie di Roma e come i salotti non ne va mai frequentati ma insomma anche una possibile carriera tra virgolette e torna in Sardegna dove appunto crea poi anche le sue opere più visionarie più importanti grandi come la montagna più politiche e probabilmente si crea questo per tornare al tema della distanza che da una da una distanza come può essere quella dell'isola il 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 fenomeno della della distanza è come se potesse essere percepito maggiormente proprio come se proprio il corpo fosse predisposto alla all'immaginare queste al fingersi no come credo neopardialmente al fingere questa questa lontananza questa questa distanza e sì le le opere di di Maria Lai e credo credo sì che il titolo abbia molto a che fare con con Maria Lai e Maria Lai è un bellissimo libro di Guglielmo di Rusbrecht non mi ricordo mai se lo pronuncio bene che viaggio in Mongolia del nono secolo in cui questo monaco arriva fino fino alle terre dei mongoli e appunto c'è questa questa riflessione sulla sulle geografie e poi ovviamente le geografie classiche ma Maria Lai sì grazie non so se qualcun altro dei presenti vuole intervenire o se ci sono altre domande sulla chat di youtube e se così non fosse io chiederei se Antonella ha voglia di leggerci ancora un suo testo per concludere l'incontro di questa sera un testo astronomico che si chiama Tauridi Tauridi quando fin dal mattino ci si arrende al caldo aspettando la notte con le pompe che lavano le strade e l'asfalto fuma di vapore quando la vita non è un intreccio ma un balbettio di digressioni affiora dal torpore l'immagine di un'acqua intravista in campagna tra le fecci e le ortiche tesa come un lenzuolo con mollette di rami e un catino di sassi verde gelo di corpo allora quella tregua consola anche noi scettici come quando un inverno affacciandoci per caso ad un balcone abbiamo visto lo sciame delle tauridi fendere a sorpresa il cielo buio grazie grazie altonella grazie a riccardo donati e a chi è intervenuto e a tutti quelli che hanno partecipato e se nessun altro vuole intervenire io non resta che salutarvi dando appuntamento a tutti per la settimana prossima cioè giovedì 11 febbraio per il quarto e ultimo incontro di questo ciclo di extrema razza sarà ospite la comparatista studiosa Françoise Lavocat di Paris Troyes che dialogherà con Riccardo Castellana su fatto e finzione cioè il libro di Lavocat la cui traduzione in italiano sta per uscire grazie ancora e auguro a tutte e tutti una buona serata grazie a tutti